Buongiorno a tutti e ben ritrovati a Vivi Consapevole Live, un'iniziativa di macrolibrarsi.it alternativa naturale per trovare insieme nuove opportunità di cambiamento economiche, personali, sociali, lavorative e di riconnessione con noi stessi e con la natura. Diamo il benvenuto alla nostra prossima ospite. Ciao Francesca, ci sei? Ciao, ciao Marianna, sì ci sono. Grazie dell'invito, buongiorno. Grazie a te di aver accettato e di trascorrere con noi questa oretta insieme. Francesca della Giovampaola è una giornalista, una permaculturice e insieme a Filippo Bellantoni ha fondato il Bosco di Ogigia, un blog su permacultura, sostenibilità e tematiche ambientali. Francesca oggi ci parla di orto, l'orto per far pace con la natura. Francesca ti lascio la parola e ci risentiamo fra un po' per le domande. Grazie, grazie. Innanzitutto vorrei assolutamente ringraziare per questa bellissima iniziativa, è veramente un bel modo per starci vicini in un momento in cui non è semplice come al solito. Io faccio parte, come mi hai presentato, anche come permacultrice, ci tengo molto. I permacultori amano soprattutto incontrarsi e abbracciarsi, quindi è molto difficile in questo momento. Purtroppo siamo tutti molto dispiaciuti, però per fortuna la tecnologia ci supporta e ci possiamo dare tanti abbracci a distanza. Ci avete mandato delle domande per strutturare questo incontro e siete partiti con una prima domanda che ci chiede di offrire una nostra visione e anche nel mio caso una visione sulle pratiche agricole sostenibili. Quindi voglio partire proprio da questo punto. Comunque, intanto vorrei sottolineare quello che per un approccio da permacultore, questa esperienza, insomma, cosa ci dice il coronavirus, cosa ci dice il covid-19, questa improvvisa pandemia che ha sconvolto completamente le nostre vite. La permacultura, che è un sistema di progettazione, parte per la sua progettazione dall'osservazione e quindi dobbiamo innanzitutto guardare quello che sta succedendo come un feedback, qualcosa che ci sta, è come una risposta che ci sta arrivando, ci sta arrivando dalla natura e quindi dobbiamo, oltre che affrontare l'emergenza, anche cercare di capire qual è il messaggio che questo feedback porta con sé. E sono già state fatte tante ipotesi, il mondo scientifico collega quello che sta accadendo ad esempio al fatto che abbiamo distrutto una quantità tale di ecosistemi, di aver ridotto gli spazi vitali per tanti animali, per tante specie viventi e anche non viventi come questi virus e quindi l'assenza di questi spazi naturali, lontani dai nostri luoghi di vita, li hanno fatti avvicinare. Quindi molto probabilmente, chissà se sapremo mai da dove è arrivato tutto questo, i danni fatti all'ambiente nella distruzione di tanti ecosistemi hanno portato a questo. E questo quindi è un primo grande elemento di riflessione, insomma, veramente rivedere il nostro approccio di sfruttamento nei confronti della natura, cerchiamo di capire quali sono gli spazi per vivere e quelli invece che dobbiamo assolutamente lasciare alla natura e non disturbare. Un altro elemento di riflessione riguarda l'inquinamento, anche qui le ricerche scientifiche poi ci diranno qual è effettivamente l'influenza dell'inquinamento sulla diffusione del coronavirus e anche sulle conseguenze fisiche che ha sulle persone. Ma anche da questo punto di vista, insomma, si stanno notando delle concomitanze, un luogo più inquinato, un luogo dove l'aria è carica di polveri sottili, per esempio, un luogo dove forse il virus si diffonde di più. E quindi anche in questo, per difenderci da questo e anche da altri possibili attacchi da elementi naturali come un virus, ci devono far ragionare anche in questo senso. Ne avevamo già tanti altri di buoni motivi per evitare l'inquinamento e per smettere di distruggere gli ecosistemi. Adesso ne abbiamo forse uno in più e forse questa grande paura in questo momento ci potrà far fare lo scatto di cui abbiamo bisogno. Ho scelto il titolo Fare l'orto per fare pace con la natura, perché in questo momento, visto che la natura ci ha presentato questa grande minaccia, il rischio è anche quello di avercela con la natura. Quindi barricarsi e creare ancora di più una barriera tra noi e l'esterno, affidarci solo alle nostre tecnologie e perdere il contatto con la natura. Questo non lo dobbiamo assolutamente fare. Io, per farvi un esempio, avevo realizzato alcuni video in cui si parlava di pipistrelli dicendo quanto erano importanti per l'equilibrio degli ecosistemi, quindi quanto dovessimo rispettarli, evitare di utilizzare veleni che potessero ucciderli e quindi eliminare la loro presenza anche dalle nostre città, dalle nostre campagne. Ecco, quei video oggi ricevono alcuni commenti che veramente mi fanno preoccupare. Qualcuno che dice, ah io prima li amavo, adesso li odio. Ecco, non dobbiamo fare questo errore, non dobbiamo prendercela con i pipistrelli. Non sono loro anche se il virus probabilmente arriva da là. Non sono le cose che la natura fa che hanno portato a questo. Ma dobbiamo guardare soprattutto a noi stessi senza prendercela con l'esterno. Quindi la natura, vale sempre la pena di ricordarla, non è né buona né cattiva. E noi siamo assolutamente parte della natura. In questo nostro essere parte della natura dobbiamo rimparare a vivere con lei. Perché appunto la grande, anche maggiore conoscenza che abbiamo, la conoscenza scientifica di come funzionano i sistemi naturali e purtroppo ci ha portato anche ad allontanarci da una conoscenza più profonda. Quindi questo non vuol dire che la scienza non sia importante, l'approfondimento, andiamo a conoscere il più possibile i meccanismi naturali. Ma non dimentichiamoci, non perdiamo la nostra vera e più profonda connessione con la natura. Quindi prendiamoci cura della natura, ecco. E quindi l'orto in questo senso ci può veramente dare una mano. È veramente fondamentale che noi impariamo nuovamente dove sta, dove la natura può aiutarci e quindi a rispettarla. Faccio un altro esempio molto semplice che spero che diventi, come dire, un elemento centrale del dibattito, anche pubblico, anche politico. Finita l'emergenza, dobbiamo per esempio parlare di fertilità dei suoli. Noi abbiamo distrutto la fertilità dei nostri suoli, presentiamo una situazione veramente complicata da questo punto di vista. Non dimentichiamoci i problemi della perdita di fertilità, della desertificazione dei suoli. Sono tutti elementi che oggi devono essere più che mai di attualità. Non concentriamoci solo sulla paura del virus, ma pensiamo a quello che dobbiamo fare per rendere il nostro pianeta più ospitale. Questo è molto importante. Allora, quali possono essere le prospettive che si aprono? È una cosa che vedo nel futuro. Intanto questo blocco delle frontiere immagino che non si fermerà rapidamente, cioè non torneremo all'apertura che avevamo in precedenza e questo durerà più a lungo di quanto non si potesse immaginare in un primo momento. perché non sarà così semplice uscire completamente dal problema di un'epidemia. Magari la terremo sotto controllo, ma dovremo continuare a stare attenti per tanto tempo. Un po' perché dal punto di vista sociale, politico, economico, le frontiere si stanno richiudendo e quindi ci vorrà magari del tempo per tornare a riaprirle. Quindi adesso dobbiamo più che mai agire sul nostro territorio. L'Italia, per esempio, non è assolutamente autonoma dal punto di vista della produzione alimentare e questo invece sarebbe molto importante. Non che si debbano fermare i commerci internazionali, si riapriranno, ci fa piacere assaggiare i sapori di altri luoghi, ma anche il cibo più importante, il cibo alla base della nostra alimentazione, del nostro benessere, è il cibo che viene coltivato il più possibile vicino a casa nostra. Quindi io vedo già questo, vedo già una possibilità in più per i piccoli agricoltori che portano avanti i loro progetti imprenditoriali con grande fatica e in questo momento sono preziosissimi. Ci stanno rifornendo, soprattutto per chi ha una certa attenzione a un'alimentazione più ricca di vegetali freschi, così ci stanno rifornendo. Quindi per loro questo è un momento di grande lavoro e spero che possa rimanere questa maggiore attenzione che abbiamo nei loro confronti e che quindi ci siano posizioni di lavoro e di lavoro dignitoso, fatto bene, dove si possa ripagare effettivamente l'impegno che questi nuovi agricoltori stanno mettendo. Non è facile vivere in campagna, lavorare la terra, non è facile far quadrare i conti e forse adesso possiamo invertire la tendenza, quindi dare valore a loro e consentire anche appunto questo ritorno alle nostre produzioni locali e che hanno poi produrre localmente a mille altre conseguenze importanti la riduzione dei trasporti, quindi riduzione dell'inquinamento, eccetera, eccetera. Insomma tutte tematiche che abbiamo cercato di affrontare che in un ambiente come quello di Vivi Consapevole vengono affrontate ma che ancora non sono alla fine così diffuse nella consapevolezza generale. Se torneranno, se torneremo ad apprezzare di più il cibo prodotto localmente avremo l'occasione anche di ripopolare le nostre campagne e quindi ci saranno più occasioni di lavoro e ci sarà quindi un maggior presidio del territorio. Potremo prenderci maggiormente cura della natura. L'abbiamo abbandonata le nostre campagne con conseguenze gravi per esempio le alluvioni, certe problematiche del territorio derivano anche da una perdita della cura che un tempo avevano i contadini per il territorio. Quindi vedo anche questo aspetto positivo. Poi un'altra cosa che mi auspico è proprio la diffusione della produzione di cibo anche a livello obbistico che è molto importante. Livello obbistico non significa che lo faccio solo per diventimento. Livello obbistico quando non lo si fa in maniera professionale ma lo si fa comunque per il sostentamento della propria famiglia. Bene, anche questo livello spero che si diffonda tantissimo e oggi cercheremo proprio di dare qualche consiglio per avviare il primo orto anche per chi non l'ha mai fatto. Questo livello potrebbe anche diventare una produzione di una piccola economia perché non è detto che soltanto chi fa una grande produzione professionale debba essere abilitato a vendere. Forse potremmo rivedere alcuni aspetti della nostra legislazione in questo senso perché se io per esempio ho degli alberi da frutta che in un certo periodo dell'anno producono di più di quanto io non possa consumare perché non poterlo condividere e anche sviluppare una piccola economia. In questo senso c'è anche lo scambio che è molto importante e anzi spero che venga sviluppato anche questo proprio sulla scia di quello che sta accadendo. Impariamo di più a condividere anche gratuitamente. Ma abbiamo bisogno anche di piccola economia perché tante persone hanno perso il lavoro e quindi perché no? Impariamo a coltivare i nostri piccoli orti forse potremmo anche cominciare a fare piccoli commerci con i nostri prodotti perché ci sarà veramente bisogno di fare tesoro di tutte le risorse e quella diciamo alimentare è fondamentale. Questo è un po' insomma quello che vedo per il futuro della nostra economia quindi spazio alle piccole aziende e sostegno ai piccoli agricoltori e anche una diffusione sul territorio anche di produzioni amatoriali. Poi vorrei anche fare riflessioni sulla seconda domanda che ci avete inviato quali opportunità in questo momento di pausa ci propone per vivere consapevolmente il futuro. Allora effettivamente questo è un momento di grande riflessione. Io sto ragionando in questo senso e quindi condivido con voi. La mobilità in questo momento è completamente ferma ma forse sarà rallentata come dicevo all'inizio. Avremo meno possibilità di viaggiare avremo meno possibilità di farci un weekend da una parte quindi andare al mare quando abbiamo voglia di mare andare a fare una gita in campagna, in città in una città storica, visitarla insomma sarà un po' più difficile per un po' muoversi così velocemente come abbiamo fatto. Ed è anche giusto perché questo eccesso di mobilità aveva anche un grosso impatto ambientale. E allora la riflessione che possiamo fare in questo momento in cui dobbiamo stare fermi è stiamo veramente bene nel posto in dove ci troviamo è questo il posto dove siamo contenti di essere stati bloccati per un po' o avremmo preferito trovarci da qualche altra parte. Ecco questa è una buona riflessione che ci può aiutare a capire, a progettare il futuro, tornando al tema della progettazione. Possiamo immaginare se nel nostro futuro vorremmo essere da qualche altra parte e quindi poi fare le azioni per scegliere effettivamente il luogo in cui vivere perché sarà il luogo dove trascorreremo la maggior parte del nostro tempo. La stessa cosa vale per le persone con le quali vogliamo condividere, no? Abituati a muoversi, ad incontrare tante persone. Adesso siamo chiusi nelle nostre case, ma insomma anche in una fase successiva probabilmente avremo meno possibilità di raggiungere i nostri amici che stanno lontano, le nostre famiglie. Allora dove vogliamo vivere? Vogliamo vivere vicino alla famiglia d'origine, al luogo dove siamo cresciuti, siamo felici delle nostre scelte, ci manca qualcuno e vogliamo quindi cambiare anche da questo punto di vista. Questo secondo me è veramente un momento ideale per fare questo tipo di riflessione. E veniamo agli orti. Allora l'orto veramente è un grandissimo aiuto, ci fa bene veramente per un'infinità di cose. Mi sono presa degli appunti perché non volevo dimenticarmi gli esempi che vi voglio fare. Ma l'orto è innanzitutto bellezza, la natura è bellezza e il più possibile avere natura vicino a noi anche sul balcone ci fa stare bene. L'orto ci consente di assaggiare i cibi freschi, i cibi coltivati in maniera biologica perché la maggior parte degli orti fortunatamente che facciamo hanno grandissima attenzione alla qualità della coltivazione e quindi l'orto ci consente di conoscere i veri sapori e quindi non fare più determinati compromessi insomma di quel cibo fatto solo per fare grandi quantità e profitti senza però tenere conto delle vere sue qualità che sono il sapore ma che poi il sapore ci nasconde anche le proprietà nutritive che ha al suo interno. Un orto ci insegna tantissime cose, è pedagogico, le insegna a noi adulti e le insegna tantissime cose ai bambini. È veramente triste pensare alle generazioni cresciute soltanto con i prodotti già raffinati, scatolati, precotti addirittura senza dare la possibilità ai bambini di capire effettivamente il cibo dove cresce, come cresce, di cosa ha bisogno e quindi insomma una grandissima occasione un piccolo orto la offre per questo insomma, per crescere anche generazioni più consapevoli. Dà una grande soddisfazione produrre il proprio cibo, è un'occasione di condivisione con gli altri, ci dà anche un equilibrio interiore, è un tempo pespeso quello nel quale ci prendiamo cura di un orto come anche di un giardino, le due cose, una non esclude l'altra, si possono incontrare, un orto può essere bello come un giardino, un giardino può integrare degli elementi commestibili, diciamo così. Stimola la creatività un orto, possiamo fare l'orto bello e possiamo anche, e in questo momento è particolarmente importante perché siamo chiusi dentro casa, possiamo pensare a come creare il nostro orto con quello che abbiamo e quindi non andare necessariamente a comprare cose già pronte, sacchi, vasi, tutto già pronto con un kit che ci fa spendere un sacco di soldi da riportare a casa, insomma perché ci è venuta voglia di provare l'orto, possiamo innanzitutto proprio partire da la progettazione del nostro orto con gli elementi che abbiamo e quindi questo ci stimola la creatività. Le stagioni, questa è un'altra cosa molto importante, vale per i bambini ma vale anche per i grandi, capire effettivamente quali sono le stagioni giuste in cui crescono le piante, ci dici quali sono le stagioni giuste per andare a fare acquisti, quando andiamo a fare acquisti, abbiamo veramente riacquisire la consapevolezza che non tutto è in natura disponibile in ogni elemento dell'anno e che cambiare la nostra dieta seguendo i cicli della stagione non è una rinuncia ma è una conquista perché la natura che si è evoluta aiutandoci a crescere sa anche darci i prodotti giusti al momento giusto per il nostro benessere. Quindi più mangiamo cose di stagione, più mangiamo quelle cose che ci fanno bene in quel momento. Questo periodo dell'anno ci richiede sostanze diverse per affrontarlo. Riempire di orti le nostre città ha anche un effetto di mitigazione climatica, più verde mettiamo, per esempio soprattutto se facciamo gli orti nei tetti, quello sarebbe un passaggio fondamentale, avremmo un ottimo strumento per ridurre quell'effetto bolla di calore che comincia a diventare sempre più pesante in città, che ci costringe ad utilizzare i condizionatori, che sono un ulteriore spreco di energia e un ulteriore elemento che poi aggrava il problema generale. Quindi mettiamo più verde possibile vicino alle nostre case. Facciamo attività fisica, ci stimola a muoverci, a fare movimenti e quindi perché no ci fa benissimo anche in questo senso. E poi ci permette per esempio di scegliere delle piante, di coltivare delle piante che ci va di assaggiare ma che non si trovano in commercio con tanta facilità. Se ci sono per esempio degli aromi che ci piace aggiungere ai nostri piatti, li possiamo coltivare direttamente, averli sempre pronti, freschi. risparmieremo, tra l'altro quando si vanno a comprare gli odori, li chiamiamo gli odori tutti insieme, spesso c'è un grande spreco, ne dobbiamo acquistare più di quanto non ce ne serva. Si risparmia, si può risparmiare perché un orto pensato bene, è abbastanza produttivo, ci dà anche un po' di sollievo al portafoglio. Non dimentichiamo i fiori che nell'orto sono sempre fondamentali e quindi questo ci aiuterà anche a riportare gli insetti, dare nutrimento agli insetti, questo darà nutrimento agli uccelli e così via. Quindi andiamo ad integrare più natura nell'ecosistema cittadino. Ho citato un po' di cose, ce ne sono anche altre di buone ragioni per fare un orto, ma spero di avervi fatto venire voglia di fare un orto anche in città. L'orto si può fare ovunque. È veramente difficile dire, non ho la possibilità di fare un orto, non so proprio dove farlo. Quando ci potremo muovere, quando potremo uscire di casa, avremo di tutto a disposizione. Possiamo chiedere anche di farlo in alcune parti, addirittura nei marciapiedi. Ci possono essere delle parti della città, ci sono tantissime esperienze in questo senso nel mondo di città dove l'orto è veramente diffuso anche lungo le strade. Lo possiamo fare sui tetti e quella è veramente una risorsa importante. Là c'è un sacco di sole, c'è l'aria, ci sono gli spazi giusti per dare spazio appunto alla natura, ai nostri orti. Lo possiamo fare nei parcheggi, anche nelle zone industriali abbandonate con dei parcheggi non più utilizzati possono essere rinaturalizzati. Non dobbiamo togliere il cemento, ci dovremo semplicemente modificare dei cassoni nei quali mettere buona terra e da lì ripartiremo i nostri orti. Quindi gli spazi, la città ce ne offre tanti, per non parlare dei parchi che possono in parte essere riconvertiti a orti urbani, vi tutti quegli spazi che rimangono tra i parazzi semiabbandonati e che per fortuna già in tantissime città sono stati recuperati. Io vivo a Roma, a Roma ha tantissimi orti urbani e le persone proprio scelgono gli spazi che vedono a disposizione e fanno in modo di farli diventare produttivi, luoghi di incontro e le esperienze in questo senso sono tantissime. Ora però siamo chiusi a casa, anche andare nell'orto urbano è un problema, speriamo che venga risolto rapidamente in tutte le città perché l'autoproduzione di cibo in questo momento con tutte le difficoltà economiche sta diventando anche ancora più impellente però insomma in attesa di capire come fare per frequentare i nostri orti in sicurezza possiamo anche coltivare nelle nostre case. E quindi ci possiamo accontentare veramente del balcone, addirittura ci possiamo accontentare anche di un davanzale, insomma piccolissimi spazi di luce possono consentirci di iniziare a coltivare qualcosa. Allora ho parlato di luce, è molto importante per far crescere le nostre piante che ci sia il sole. Poi ogni ortaggio ha necessità diverse, alcuni si accontentano veramente di poche ore di sole, altri invece hanno bisogno di quasi un'intera giornata di esposizione solare. Quindi questo è un elemento che dobbiamo osservare prima di tutto, insomma. Non tutti i balconi si prestano allo stesso modo, non tutti gli ortaggi si possono fare. Qualcosa si può fare sempre, però bisogna fare attenzione. Quindi in questo senso guardiamo prima di tutto l'esposizione. Però una volta che l'abbiamo individuata poi veramente possiamo fare di tutto. Allora, se abbiamo già dei vasi a casa, insomma, si tratta solo di convertire eventuali colture, ma potrebbe anche capitare che l'orto a casa non l'abbiamo mai fatto e quindi non abbiamo neppure i materiali di base disponibili. Per esempio i vasi, ma i vasi insomma si possono recuperare anche da oggetti che abbiamo in casa. Intanto questo è un periodo di semine, quindi se abbiamo dei vasetti di yogurt facciamo un buchino sotto e mettiamo i primi semi. Poi vediamo anche i semi dove reperirli. Comunque si possono recuperare tanti materiali. I vasetti un po' più grandi, anche ci sono i vasi di yogurt più grandi, mi vengono in mente queste cose. Poi ci sono tutte le cassette di legno o anche di plastica che possono essere riadattate con qualche accortezza. Quindi i materiali a disposizione le possiamo reperire. Se vogliamo recuperare una cassetta abbiamo bisogno di rivestirla. E lì uno materiale che si auspica è quello dell'aiuta, per esempio una balla di aiuta. Però non tutti abbiamo una balla di aiuta a casa, ma potremmo anche provare con un vecchio lenzuolo. Insomma sto parlando di un momento di emergenza, poi andremo a migliorare le nostre tecniche. Però insomma anche i tessuti, un tessuto normale, un tessuto naturale potrebbe esserci utile per creare i nostri primi vasi in questo momento se abbiamo voglia di cominciare l'orto. Dove troviamo la terra? Questo è un bel problema, perché tra l'altro non è ancora chiaro chi possa andare a fare acquisti di sacchi di terra. Quindi se non abbiamo niente a casa il problema non è semplice da risolvere. Però se abbiamo già qualcosa, per esempio se abbiamo il vasetto ancora del basilico che avevamo comprato l'anno scorso e nel frattempo è morto perché è una pianta stagionale, abbiamo quel panetto insomma di terra, che non è proprio terra, insomma di materiale nel quale si appoggiava, quello può essere riciclato. Io insomma cerco di recuperare anche questo tipo di materiale e quindi insomma vediamo cosa abbiamo a casa. Poi se è possibile che possiamo scendere un attimo, di solito non si può fare, ma insomma qualche pochina di terra cerchiamo di recuperarla se abbiamo un giardino condominiale, un po' di terra ci vuole. Però poi per dare nutrimento alle nostre piante a disposizione in casa abbiamo tutti gli scarti vegetali che produciamo quotidianamente, insomma preparando i nostri piatti. Gli scarti vegetali sappiamo sono veramente una risorsa fantastica, servono proprio per creare humus, con un processo di compostaggio si può ottenere il miglior terriccio e fertilizzante che ci sia. Allora in questo momento di tempo non ne abbiamo tanto, dovremmo intervenire sul nostro orto subito. Allora diciamo che ho anche preparato una cassettina, io stavo pensando come faccio per ampliare il mio orto, ce l'ho un orticello sul balcone ma volevo ampliarlo. Allora cosa ho in casa? Ecco la cassetta che vi dicevo, la cassetta di plastica con la quale andiamo magari a ritirare le verdure in questo momento, che va un po' diciamo sistemata per poter trattenere i materiali che andremo dentro. Io qui avevo una retina, quindi qualcosa di traspirante, secondo me è una buona base. Possiamo inserire una parte dei nostri rifiuti organici in questa cassetta, quindi se abbiamo poca terra, un pochino di terra ci serve, però se ne abbiamo poca, mettiamo dei rifiuti organici in modo che si avvii un processo di compostaggio, cerchiamo di accelerare, questo è proprio un orto di emergenza, un processo di compostaggio. Facciamo in modo che appunto possa passare l'aria, con una cassetta del genere riusciamo a far transitare l'aria perché il compostaggio deve venire in maniera aerobica e quindi riempiamo bene la nostra cassetta, cerchiamo di mettere sia materiali più umidi ma anche materiali più secchi, dobbiamo creare un mix, non dobbiamo mettere niente di origine animale, insomma dobbiamo avere alcune accortezze, però possiamo fare diverse cose. Tra l'altro il Bosco di Ogigia, poi non mi sono presentata bene all'inizio, il Bosco di Ogigia fa video dove si danno consigli sull'orto, quindi adesso io vi dico alcune cose, poi se volete avete a disposizione anche il canale YouTube, la pagina Facebook per vedere altre informazioni. Francesca scusa, ti posso fare una domanda assurdo su questi scarti vegetali da mettere alla cassetta? Perché poi ce lo fanno, puoi essere proprio precisa, dici cosa ci dobbiamo mettere? Cioè la buccia di banale, il fondo di caffè, piuttosto che delle foglie secche, dacci proprio qualche indicazione specifica perché gli ascoltatori ce lo stanno già chiedendo, grazie. Ok, perfetto. Allora guarda, diciamo che io adesso ho fatto un po' un ragionamento legato proprio alla situazione che stiamo vivendo, perché in questo momento se non possiamo uscire di casa difficilmente riusciamo a prendere per esempio della paglia, del fieno secco, delle foglie secche, se abbiamo qualcosa anche lì recuperiamo, però quello diciamo che dobbiamo fare sempre quando creiamo questo compostaggio domestico è mettere materiale verde e materiale giallo, si dice così, il materiale verde è quello più fresco, quindi sono proprio gli scarti vegetali, le foglie dei carciofi, le foglie esterne dei carciofi, che ne so, in questo momento abbiamo bellissime carote, quindi le foglie delle carote che scartiamo, tutto questo è materiale fresco ed è materiale che contiene molto azoto e va compensato con materiale più ricco di carbonio, quindi qualcosa che sia già più essiccato. Se non abbiamo appunto foglie secche, paglia, cose del genere, possiamo fare con la carta, diciamo per esempio uno scottex bianco, insomma senza troppi disegni, magari lo sbricioliamo un po', quello è un ottimo materiale carbonio, si integra bene nel fare questo compostaggio, anche del cartone, magari facciamo delle striscioline di cartone, ci può aiutare, l'importante è creare sempre un mix tra queste due cose, in genere si mette più materiale secco che umido per avere la giusta proporzione. Questo materiale inserito all'interno di una cassetta si andrà presto schiacciando, comunque quindi noi cerchiamo di riempire bene la nostra cassetta e poi di fare questo piccolo strato di terra con quello che riusciamo a trovare, se riusciamo a trovare anche del buon terriccio, dell'humus di lombrico, ben venga. E quindi facciamo le nostre semine sopra, consapevoli del fatto che le piantine quando inizieranno a svilupparsi andranno a cercare altro nutrimento e lo potranno trovare all'interno di questo materiale che ancora non è completamente compostato, ha solo iniziato il suo procedimento, ma che già sta rilasciando sostanze nutritive. Magari mettiamo un cartone, dopo aver riempito la nostra cassetta di rifiuti, mettiamo un cartone, facciamo dettaglietti su questo cartone che serviranno poi alle piante per scendere giù e andiamo insomma a sistemare le nostre piantine. Non so se ho risposto abbastanza, se ci sono altre domande specifiche poi me le leggi tu. L'altro problema che abbiamo in questo momento è cosa andiamo a mettere nelle nostre... cosa andiamo a seminare, che se non abbiamo semi a casa e se non abbiamo l'occasione di andarli ad acquistare, magari possiamo fare gli acquisti online, però insomma possiamo tentare anche di arrangiarci. Per esempio una cosa che in molte case in questo periodo penso sia diffusa sono le patate con i primi germogli. In questo momento le patate stanno germogliando e quindi possiamo tentare di fare il nostro piccolo raccolto di patate utilizzando quelle, quindi intanto i tuberi ci aiutano. Anche lo zenzero si può coltivare in casa, anche lì abbiamo acquistato dello zenzero, possiamo iniziare a vedere che sta facendo dei germogli, possiamo metterlo giù. Un'altra fonte di semi, se vogliamo fare dei peperoncini, per esempio ho pensato ai peperoncini siccati, magari ce li abbiamo a casa e quelli hanno i semi all'interno, quindi possiamo iniziare a piantare i nostri peperoncini. Abbiamo tutti i legumi, quindi possiamo, anche se lì diciamo il raccolto sarà minimo rispetto a quanti ne mangiamo, ma se abbiamo voglia di vedere crescere qualcosa abbiamo i fagioli che possono essere seminati, sotto una serie i ceci, insomma i legumi di casa in genere sono anche semi ancora in buone condizioni, vivi praticamente, pronti quindi a germinare. Anche il lino, chi ama il lino? Non lo so, quei semi là sono generalmente dei semi che possono germinare e il lino tra l'altro è una pianta decorativa bellissima, quindi se vogliamo fare anche il balcone fiorito possiamo mettere giù quei semi. Insomma se non li abbiamo a disposizione guardiamo quello che abbiamo in casa, perché probabilmente qualcosa da seminare ce l'abbiamo, tanto per prendere diciamo pratica con la natura, poi con la coltivazione, poi insomma avremo modo di fare, di scegliere con cura cos'altro vorremmo coltivare appena potremo uscire a comprarci quello che ci serve. Poi l'altra cosa importante è l'acqua, naturalmente le nostre piante hanno bisogno di essere mantenute umide e qui stando in casa non abbiamo problemi di acqua e se vogliamo risparmiarla, questa è una buona pratica in generale, l'acqua di lavaggio delle verdure per esempio, perché buttarla se abbiamo dei vasi ne possiamo insomma recuperare una certa parte per annaffiare le nostre piante, così riduciamo anche gli sprechi d'acqua, un altro elemento importante che dobbiamo tutelare. Non so se vuoi fare altre domande, se stanno arrivando domande rispondo volentieri. Sì, le domande ne stanno arrivando tante. In molte ci chiedono quali sono i fiori più adatti da inserire nell'orto per richiamare api e altri insetti. Allora sì, ci sono tanti fiori anche commessibili che possiamo mettere nell'orto, quindi oltre a richiamare gli insetti possono anche andare ad arricchire le insalate, per esempio c'è la calendula, ci sono i taggete, questi sono fiori molto belli, la borragine che è anche una pianta spontanea, quindi se siamo fortunati possiamo vederla crescere spontaneamente, altrimenti si trovano comunque i semi e fa dei bei fiorellini azzurri che piacciono sia agli insetti che ce li possiamo mangiare nell'insalata, addirittura si possono caramellare perché sono dolci, già di per sé sono dolci, mangiarli così possono diventare dei piccoli dolcetti anche particolarmente belli, quindi questi sono alcuni pianti. Io poi per esempio se uno ha dello spazio si possono mettere anche dei bei girasoli, ci sono anche fiori particolarmente grandi che attraggono gli insetti. Anche la lavanda possiamo mettere? Anche la lavanda, certo, le aromatiche, sì sì assolutamente, il rosmarino, adesso mi fai venire in mente, insomma sono tutte piante che fanno delle belle fioriture e che possiamo utilizzare in vari modi, assolutamente, ci sono l'elicriso, possiamo far crescere, sono veramente tante. Allora c'è Daniela che ci dice che abita sulle albi bellunesi a 800 metri di altitudine e che aveva iniziato a fare un orto non utilizzando prodotti chimici, però le sue coltivazioni si sono presto infestate con pidocchi e altri insetti e quindi ha perso un po' lo spirito. Come si può ovviare a questo problema? Allora diciamo che da permaculturice l'approccio deve essere sempre sistemico, quindi ad aiutarci tantissimo contro le infestazioni di qualsiasi tipo è mantenere sempre tanta biodiversità nell'orto, quindi sia in quello che andiamo a coltivare ma anche mantenere molta biodiversità nei dintorni, insomma un po' tante infestazioni si possono gestire, cioè possono migliorare anche di stagione in stagione grazie al fatto che si raggiunge un certo equilibrio. Poi ci sono un sacco di rimedi naturali, poi nello specifico, adesso non posso dire, però ci sono tanti macerati che si possono fare, dalle foglie di pomodoro all'aglio all'ortica che è fantastica, che può essere utilizzata a seconda del tempo in cui si tiene in acqua a macerare, può essere utilizzata sia come fertilizzante che anche contro vari problemi, quindi ci sono insomma tanti rimedi naturali. Contro le malattie fungine una pratica possibile è quella di mettere microorganismi, quindi per esempio un siero di latte può diventare una prevenzione delle malattie fungine, perché in pratica si va, mettendo i nostri microorganismi buoni, i nostri fermenti buoni, si va ad occupare la nicchia ecologica del possibile fungo e quindi si evita che si sviluppi un fungo nocivo alla pianta. Riguardo appunto a questo, quindi bisogna studiare un pochettino dai per fare un po' Sì, ma anche sperimentare, sperimentare, vedere quello che sia più vicino, più a disposizione, insomma. L'ortica per esempio è fantastica, se abbiamo dell'ortica quella utilizziamo, può essere anche coltivata, ma se abbiamo a disposizione altre piante vediamo di utilizzarle. Insomma, guardiamoci innanzitutto sempre intorno, prima di fare le scelte, in modo da fare qualcosa che è più adatta al nostro territorio e anche qualcosa di più sostenibile, nel senso che ci fa risparmiare, non ci fa spendere troppo, anche questo è importante, no? Se si investe tanto, iniziando un orto, si fanno grandi investimenti e poi il primo anno il raccolto non è soddisfacente, magari la conclusione sarà quella di dire no, non mi conviene, non lo faccio, questo hobby insomma non ha funzionato. Quindi facciamolo proprio guardando quello che abbiamo a disposizione, così già non spendiamo tutto quello che verrà, sarà di positivo. Dove possiamo trovare qualche informazione per approfondire, per esempio, questo discorso dei macerati, se ci vuoi consigliare qualche articolo specifico sul vostro blog, se c'è una sezione in particolare, oppure anche qualche libro o qualche altra risorsa? Allora, sì, ci sono buoni libri, io ho la biblioteca qua dietro che si vede, adesso non ti so citare, e i libri a memoria, però ci sono tanti testi, c'è una materia specifica, un filone importante, che è quello dell'agricoltura organica e rigenerativa, che ha pubblicato anche dei libri, ci sono manuali di vario tipo, che è molto importante, perché punta soprattutto a riportare la microbiologia nel suolo. Parlavo prima della perdita di fertilità, la perdita di fertilità è molto legata al fatto che le nostre pratiche hanno ridotto la presenza di microbiologia nel suolo, quindi senza i microrganismi non c'è una giusta decomposizione anche della materia organica che cade sul suolo e quindi non c'è una ripartenza di tutto il processo. Comunque, diciamo, di istruzioni su macerati, così se ne trovano tanti. Noi nello specifico, da questo punto di vista, abbiamo prodotto pochi video, ne faremo altri, però se andate a vedere, ne trovate altri di tutorial. Allora, Arianna ci chiede una precisazione sulla permacultura. Magari se ci puoi spiegare un po' più approfonditamente che cos'è e come possiamo attuarla anche nel nostro piccolo. Ok, benissimo. Questa domanda mi piace tanto. Non mi sono diluncata sulla permacultura perché è un argomento vasto. Allora, la permacultura, come vi dicevo, è un metodo di progettazione. Progettazione di insediamenti umani sostenibili. Quindi non riguarda soltanto l'agricoltura, ma riguarda appunto tutti gli aspetti della nostra vita, tutti i luoghi nei quali andiamo a svolgere un'attività. E possiamo progettare in permacultura per il sito della nostra vita. Quindi in un momento, faccio l'esempio più immediato, in un momento di grande trasformazione come questo, possiamo prendere i principi della permacultura e applicarli nella nostra vita. Comunque, la permacultura ha una caratteristica, è un metodo di progettazione che funziona solo ed è valido solo se rispetta delle etiche. Diciamo un po' la sua particolarità che non è una progettazione finalizzata a produrre qualcosa, a realizzare qualcosa. È finalizzata soprattutto al rispetto di alcuni principi etici. Sono tre, di ciascuno potrei parlare per ore. Comunque si riassumono così. Cura della Terra, cura delle persone e condivisione delle risorse. Quando parliamo di cura della Terra, parliamo sia di cura del pianeta Terra in generale, quindi dobbiamo avere uno sguardo complessivo, ma anche di cura di un piccolo pezzo di Terra. Credo che le cose nel pianeta andrebbero meglio se tutti ci prendessimo cura del nostro pezzettino. in base appunto alle energie che abbiamo, può essere un balcone o può essere un pezzo di Terra, ma è molto importante che ci prendiamo cura di quella Terra, sia nel fare qualcosa per lei, ma sia anche nell'evitare di fare danni. Quindi già ricordarsi di non buttare in giro rifiuti o insomma di essere molto consapevoli del fatto che ogni nostra azione può andare ad inquinare la Terra è molto importante. Cura delle persone, non c'è progetto meraviglioso di produzione di qualsiasi cosa che possa esidirsi un buon progetto in permacultura se non tiene conto del benessere delle persone che sono comunque al centro. Quindi è un metodo di progettazione che è molto attento alla natura, ma che vuole soprattutto che le persone stiano bene. Ed è molto importante e anzi lavorare sulle persone è in genere il primo passo che si può fare. Se si vuole coltivare un orto, per esempio, bisogna guardare a chi può aiutarci, a chi sta vicino a noi, a chi può usufruire di quello che andiamo a fare, a chi possiamo dare una ma. Abbiamo voglia di coltivare un orto, non ce l'abbiamo, andiamo ad aiutare qualcun altro. E non c'è progetto di produzione che possa dirsi in permacultura se non rispetta anche i diritti dei lavoratori. Quindi un'azienda in permacultura sicuramente sarà un'azienda che tiene in massimo conto il benessere delle persone che ci lavorano. E poi la condivisione, insomma anche questo è una condivisione del surplus. Dobbiamo prendere quello che ci serve, stare bene, ma non pensare di dover accumulare tutto per noi. Questo è, credo che a livello globale in cui sia sempre più macroscopico. Poche persone che concentrano enormi ricchezze e altri che non hanno niente, invece tutti dovremmo ragionare su quello che ci serve, quello che ci fa stare ancora un po' più bene, insomma, ma poi dobbiamo anche condividere. Quindi quando produciamo qualcosa pensiamo sempre a condividere una parte del nostro racconto. Questi sono i leti. E poi ci sono tutti i principi di progettazione. Anche qui ho un discorso lungo, ci sono tanti testi disponibili per approfondire, per chi si vuole avvicinare alla permacultura. Manuela ci chiede, che futuro vedi per i progettisti di orti e di giardini? Come possono proporsi ai clienti in maniera efficace? Una domanda particolare. Ok. Diciamo che intanto c'è una crescente attenzione verso questa materia e quindi è probabile che, insomma, una certa domanda si apra subito. Diciamo, in questa società tecnologica è far vedere quello che sappiamo fare, quello che ci può aiutare. Quindi, o apriamo una pagina Facebook, un piccolo sito, mostriamo quello che sappiamo fare. Rendiamolo pubblico, facciamo vedere che sappiamo dare anche buoni consigli e quindi in questo modo insomma sarà più semplice raggiungere un pubblico. Allora, un altro ascoltatore ci chiede quanti metri quadri servono di orto per l'autosufficienza delle due persone? Questo non so dare una risposta esatta. Beh, difende anche da... Quanto uno mangia. Da quanto uno mangia ma da quanto riesce a fare. Non tutta la terra è uguale innanzitutto. Ecco. Anzi, non c'è veramente un orto uguale all'altro. Non c'è una ricetta che si possa replicare su più di un orto. Bisogna sempre osservare tantissimo quello che si ha a disposizione ma ci sono esperienze fantastiche di cento metri di terra in un piccolo giardino di pertinenza di una casa che è stato sfruttato benissimo. Non dico che dia proprio l'autosufficienza perché ci sono alcune cose come i cereali che ancora hanno bisogno di maggiori estensioni ma insomma dipende da quello che mangiamo veramente si può si può anche riuscire a raggiungere una quasi autosufficienza con pochi metri però è un lungo lavoro insomma di grande di riportare grande fertilità grande capacità di utilizzare i vari livelli in questo senso no? Perché se si ha poco spazio come dimensione si deve poi sfruttare nel verticale e quindi fa in modo che le piante che ha più bisogno di sole si è esposto al sole che ne ha meno bisogno possa stare sotto e quindi in poco spazio consociare tantissime cose diverse. Questo è un po' il principio della food forest il bosco di Ogigia è una food forest sfruttare i vari livelli dal grande albero all'erba tappezzante mettere più cose insieme creare le consociazioni che facciano sì che si possa avere tanta produzione tante cose commessibili in poco spazio poi ci sono le spontanee non dimentichiamoci che tante cose poi crescono da sole quindi quando si ha un po' di terra a disposizione si scoprono cose di cui nutrirsi anche se non le si è coltivate con fatica. Allora Giorgio da Roma ci chiede io abito in un condominio abbiamo un terrazzo condominiale dove ci sono le antenne tv di tutti i condomini pensi che sia uno spazio che si può utilizzare per fare un orto o le onde delle antenne possono essere dannose? Io credo che ci si possa provare viviamo in un mondo dove le onde elettromagnetiche ci arrivano da ogni dove quindi poi possiamo guardare quello che succede non so nello specifico quante antenne però ci si può provare insomma quando parliamo di coltivare i tetti in città sicuramente parliamo di una presenza massiccia di antenne quindi assolutamente io proverò di provarlo Chiara chiede che differenza sostanziale c'è tra un orto sinergico e un orto in permacultura ok allora la permacultura come ho spiegato poco fa è un sistema di progettazioni quindi non è una tecnica mentre l'orto sinergico è una una tecnica quindi la permacultura può scegliere di utilizzare tante tecniche diverse potrebbe integrare al suo interno anche un orto sinergico un orto sinergico invece è una tecnica che utilizza le sinergie che si possono creare tra le piante e quindi in un'aiuola non metterà una sola varietà metterà varietà diverse che andranno a aiutarsi reciprocamente perché le piante quando crescono in un terreno hanno uno scambio con quel terreno qualcosa prendono ma qualcosa restituiscono e le piante hanno ciascuna esigenze diverse quindi può essere veramente uno scambio sinergico poi anche a livello aereo insomma perché lo sviluppo diverso di una pianta fa sì che appunto quella che ha bisogno di un po' più di ombra sia riparata da quella che invece ama il sole quindi diciamo le sinergie si hanno a diversi livelli quello è l'orto sinergico invece la permacultura può scegliere di utilizzare tutte le tecniche insomma dal biodinamico a anche un'agricoltura tradizionale purché non utilizzi i veleni altrimenti non ci siamo presi cura né della terra né delle persone Erika chiede se in Italia esiste una rete o un'organizzazione che si occupa della gestione o la creazione di orti urbani o di recupero di aree abbandonate non so se ci sia qualcosa del genere io conosco la realtà di Roma dove la maggior parte degli orti sono nati in maniera spontanea e quindi sono le persone che hanno proprio sentito l'esigenza si sono incontrate e hanno quasi sempre dato vita a un'associazione perché poi avere un'associazione è importante per avere un riconoscimento da parte dell'amministrazione pubblica e dell'amministrazione comunale che poi appunto consente per esempio di utilizzare un terreno pubblico di avere un riconoscimento un riconoscimento ufficiale e in questo modo poi si possono si può partecipare anche a debandi ci sono stati dei sostegni internazionali alla creazione di orti urbani questo per esempio è avvenuto quindi insomma poi esiste una rete a Roma gli orti urbani si sono poi riuniti in rete per portare avanti i loro diritti e le loro richieste non so se ci sia un organismo proprio internazionale per gli orti sicuramente ci sono dei progetti europei per diffondere le buone pratiche degli orti urbani tra i diversi paesi quindi per chi volesse stimolare la creazione di un orto urbano nella propria zona il consiglio è quello di farlo di provarci in prima persona cercando altre persone che lo vogliano fare costituendosi in associazione dialogando con l'amministrazione per trovare il luogo e le modalità esatto esatto si può individuare un terreno abbandonato che ci sembra idoneo e quindi si possono poi andare a fare tutte le verifiche se quel terreno appartiene al pubblico appartiene al privato entrambi possono darci l'autorizzazione anche un privato potrebbe dirci sì utilizzalo per 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 fare l'orto perché riconosco la funzione sociale quindi si individua un terreno ci si informa si chiede si chiede aiuto e poi se si crea un'associazione ci sono anche altre possibilità di gestirlo bene in genere hanno dei bei regolamenti gli orti urbani che puntano molto all'inclusione e quindi anche 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 per avere un orto urbano visto che spesso c'è scarsità bisogna dimostrare di avere voglia di impegnarsi e di farlo veramente se non lo si fa poi lo si perde se non lo si coltiva con continuità e non si partecipa anche alle attività sociali perché genere si fa l'orto ma non si fa solo il proprio quadrettino si cura tutto uno spazio tra l'altro gli orti urbani sono veramente un ottimo stimolo alla socialità all'integrazione anche tra culture tra generazioni diverse io ho abitato in Svizzera e ci sono molti orti urbani e sono anche la possibilità in un paese di immigrazione come quello per le persone per entrare in contatto per creare appunto integrazione c'è questa grande occasione di andare anche oltre l'orto e arrivare a dei legami anche tra varie generazioni bambini anziani un recupero dei saperi quindi è un'esperienza a 360 gradi guarda assolutamente dici benissimo hanno veramente una funzione fondamentale sociale tanto e nella città oggi questo è importantissimo poi intorno all'orto quando si è creata una comunità si possono creare anche dei gruppi di acquisto si possono creare occasioni di scambio sia di qualcosa di materiale di fisico ma anche soprattutto di saperi quindi veramente una ricostruzione del tessuto sociale che è fondamentale ricreare vita di condominio quindi imparare a riconoscere i propri vicini è veramente fondamentale hai citato lo scambio generazionale per gli anziani l'orto è veramente un'occasione grande per essere utile per incontrare gli altri per trasmettere conoscenze sono veramente tantissime le cose positive che fa un orto quindi ce ne vorrebbe veramente uno a disposizione per ogni quadrante cittadino insomma perché poi in città si vive in tanti quindi ce ne vogliono veramente tantissimi allora Francesca ci chiedono rispetto alla cassetta che hai fatto vedere prima quindi come partire adesso con le cose che abbiamo questo tipo di metodo ci chiede Giovanna non attira però poi un sacco di formiche come possiamo fare per tenerle lontane andiamo andiamo nel pratico no no assolutamente infatti il problema è allora intanto un buon compostaggio se quando c'è diciamo quel giusto mix tra materiale umido e materiale secco non dovrebbe non dovrebbe portare allo sviluppo di di moscerini che è un altro dei possibili problemi che questo che ci porta la frutta in decomposizione tra i moscerini quindi potrebbe accadere nel nostro compost lì è importante avere questo giusto mix tra secco e umido mantenere il giusto grado di umidità e le formiche invece arrivano quando è troppo secco se è umido non arriveranno le formiche comunque io ho fatto vedere questa rete diciamo che la presenza di una di una rete è abbastanza fitta è abbastanza importante possono arrivare anche gli uccelli da in questo momento poi abbiamo visto che nella città stanno riprendendo un po' il controllo quindi se vedono del cibo potrebbero avvicinarsi avvicinarsi anche loro si possono creare anche dei piccoli spaventapasser insomma basta mettere qualcosa che diciamo che crea un problema un disturbo e quindi possiamo evitare questo problema comunque le formiche non vedo il problema principale quello delle formiche l'altro problema che è in una cassetta del genere che poi si ha una produzione di un po' di percolato quindi andrebbe messa un po' sollevata con qualcosa sotto che raccolga eventuali liquidi che scendono in basso che tra l'altro sono molto nutrienti poi se li aggiungiamo all'acqua con cui andiamo ad irrigare andiamo anche a mettere nutrienti alle nostre alle nostre piante quello ecco è una cosa in un progetto del genere è il punto più più critico insomma gestire il percolato non ti sento scusami avevo sono io avevo messo muto sempre sempre arrivata al progetto della cassetta che sta suscitando molto interesse Anna ci chiede se questo materiale fresco che abbiamo messo sotto può bruciare le radici delle piante e quanto tempo deve passare dal compostaggio alla semina quindi se possiamo subito seminare in questa cassetta o se deve passare del tempo allora se vogliamo avere dell'humus completo dovremmo passare dei mesi almeno quattro mesi in cui stiamo a rigirare a sistemare quindi io ho fatto questa proposta proprio per poter seminare subito per questo è importante poi creare comunque uno strato di terra dove le piantine iniziano le prime fasi di produzione dopodiché andranno a pescare in basso e saranno loro che sceglieranno insomma troveranno i nutrienti un po' una via di mezzo un po' se si pensi a come un'acqua ponica vai comunque a creare un substrato di nutrimento dove le piante vanno a trovare ciò di cui hanno bisogno è un sistema di emergenza non è perfetto ma lo si può fare anche in grande adesso l'ho raccontato con una cassetta ma se si ha uno spazio più grande anche con dei pallet per esempio un metro per un metro mantenendo un po' di sollevato da terra tutto quanto in modo da far circolare l'area lì possiamo fare veramente un bello stato di questi rifiuti mettiamo del cartone un pochino di terra le piantine e col tempo si abbasserà notevolmente la nostra massa però le piante avranno del nutrimento questo è proprio pensato per iniziare subito ok quindi ricapitoliamo cassetta retina strato di materiale organico misto secco e umido strato di terra seminiamo subito se avete anche dell'argilla espansa qualcosa da mettere sotto non è male per esempio lo faccio un po' a volte con i noccioli con se ho i noccioli delle mandorle delle nocciole appunto le gusci scusami i gusci di questa della frutta secca può essere diciamo un substrato di base che mi sostituisce l'assenza di argilla comunque guardiamoci in casa e magari abbiamo anche un po' di di sassi che ci siamo magari portati via di qualcosa di una pietra popice che ci siamo portati via a qualche viaggio magari troviamo una base ascolta francesca ci chiedono di specificare meglio come mettere a dimora le patate quindi noi abbiamo la nostra patata che ha fatto i germogli i getti come dice mia nonna ha gettato prendo tutta la patata e la interro è uguale per lo zenzero o devo staccare il germoglio no 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 la metto tutta la metto tutta intera le patate in realtà riescono a crescere anche se non hanno terra quindi potremmo creare questo substrato che ti dicevo non l'ho sperimentato ma potrebbe funzionare mettendo insomma un po' mix di materiale che ci sia anche un bel po' di secco perché se è troppo umido magari potrebbero marcirsi e tenerle al buio con del cartone e quindi poi lasciare solo lo spazio per far uscire per far uscire la piantina le patate si coltivano anche sotto la paglia si possono fare le mucche di paglia e metterle sotto e le patate cominciano a crescere comunque però sì insomma comunque la patata si interra si mette sotto terra non si stacca il germoglio perché la patata costituisce il nutrimento per la prima parte dello sviluppo fino a che non ci saranno le foglie che faranno la fotosintesi invece per quanto riguardi i legumi che hai sempre citato prima anche questi come li mettiamo a dimora li dobbiamo prima mettere in acqua o secchi se li mettiamo in acqua possono crescere in entrambi i modi però se li mettiamo in acqua per qualche per qualche ora si può fare anche un bagnetto con acqua e camomilla con l'acqua insomma la camomilla si svilupperanno più rapidamente perché il seme ha questa caratteristica per durare a lungo per conservarsi riduce la quantità di umidità al minimo e per risvegliarsi perché il seme è un piccolo organismo vivente che sta dormendo ha bisogno di umidità se noi gli diamo subito questa umidità in fase iniziale lui si sveglierà prima e quindi avremo prima il risultato altrimenti dovremo annaffiare con costanza fino a che non avrà reintegrato la parte l'umidità che gli serve per cominciare a crescere allora due domande ricorrenti sono quando innaffiare e quando concimare con che cosa ok allora innaffiare dobbiamo dobbiamo tenere d'occhio la terra insomma quello tra l'altro quando si coltiva nei terrazzi nei balconi l'innaffiamento in genere è molto più frequente perché intanto abbiamo uno spazio piccolo che si asciuga prima poi c'è più esposizione anche ai venti e quindi insomma è generalmente quotidiano l'innaffiamento poi però si deve considerare questa è una giornata di pioggia che comunque c'è più umidità nell'aria e non c'è bisogno quindi l'acqua poi ogni ortaggio ha anche caratteristiche diciamo richieste diverse però toccare la terra sentire se la terra è ancora un po' umidina e se invece la troviamo asciutta aggiungere aggiungere acqua allora per aggiungere nutrienti per esempio ho citato l'humus di lombrico oppure un compost domestico che possiamo che possiamo fare in questo momento io sto applicando anche un altro piccolo principio che è la creazione di una mini la chiamo mini compostiera che infilo praticamente dentro al dentro al vaso un tubo ecco grazie a Filippo Bellantoni che mi ha mandato l'immagine questo è un vecchio vaso di pallini da tennis ma si può costruire una struttura simile anche con una bottiglia tagliandola sopra e sotto perché io ho interrato questo cilindro ma sotto è nella terra non c'è non c'è una base diciamo così metto materiali da compostare e anche lì ho questo processo di percolamento che mi va a portare un po' di nutrimento alla terra che le radici poi individuano dove c'è del nutrimento perfetto Francesca hai tempo ancora una decina di minuti per rispondere a qualche domanda sì sì non ci sono problemi grazie ok a piacere allora aspetta che le vado a ripescare cosa pensi chiede Donatella della cultura idroponica allora idroponica e acquaponica io conosco qualcosa dell'acquaponica che è quella diciamo che si fa utilizzando come nutrienti gli escrementi dei pesci quindi si riesce diciamo a creare un sistema nel quale le piante si nutrono degli scarti di qualcun altro in questo caso appunto dei pesci e quello è un buon un buon sistema credo che come la terra per creare ortaggi ricchi di nutrienti belli non ci sia non ci sia nient'altro però è anche vero che per portare culture in città quello può essere un buon metodo addirittura si possono fare proprio orti dentro casa con questo metodo si possono creare degli acquari collegati a dei vasi con magari anche un'illuminazione artificiale e quindi addirittura coltivare dentro dentro casa non sono contraria perché l'importante insomma è diffondere il più possibile la produzione di cibo e quindi far viaggiare il meno possibile il cibo e produrlo in casa quindi perché no insomma non è male bisogna saperla fare bisogna saper conoscere un po' di più approfonditamente il funzionamento degli ecosistemi perché per mantenere un buon equilibrio si deve si deve sapere conoscere come funziona la vita quindi dai microrganismi da inserire alle piante depuratrici eccetera eccetera insomma ci sono un po' di competenze da mettere in campo però è buona poi per quanto riguarda una coltivazione fatta soltanto in un liquido al quale si fanno aggiungere degli elementi nutritivi lì spero che non si debba arrivare a diffondere più di tanto questo tipo di agricoltura spero che riusciremo a recuperare la fertilità dei suoli e evitare quel tipo di coltivazioni perché ripeto non credo che si possa dare artificialmente tutto quello che la natura sa dare da sola la complessità dei nutrienti di cui ha bisogno una pianta restiamo di avere piante grandi belle ben sviluppate ma che non ci nutrono non essendosi nutrite abbastanza bene e non nutrono abbastanza bene nemmeno noi a questo proposito infatti Davide ci chiede dopo questa crisi forse riusciremo ad avere una maggiore consapevolezza e a produrre cibo e ad allevare in maniera più consapevole in modo da avere sui banchi del supermercato scrive lui dei prodotti più adeguati alla nostra nutrizione Allora credo che dipenda da noi è veramente il momento di essere più esigenti quando andiamo a acquistare cibo lo dovremmo fare gradualmente perché una parte della produzione della distribuzione una buona parte della produzione della distribuzione di cibo soprattutto nelle città ma ormai anche nei paesi deriva dalla grande distribuzione che produce in maniera non rispettosa degli ambienti quindi gran parte della devastazione dei territori dei cambiamenti climatici derivano proprio da come facciamo agricoltura e anche allevamento quindi un cambiamento più che mai impellente spero che questo grandissimo spavento che ci siamo presi tutti quanti serva a aumentare la consapevolezza in questo momento si stanno sviluppando le reti alternative di distribuzione anche per quell'esigenza di evitare le file nel supermercato esatto ok quindi non possiamo andare al supermercato allora vediamo come possiamo fare quindi aziende agricole del territorio acquisti oculati anche per corrispondenza quando ci sono dei prodotti specifici che hanno bisogno di una di un determinato tipo di produzione particolare insomma non possono essere distribuiti in tutto il territorio però questa questa necessità ci ha spinto ad indagare ad indagare su chi vicino casa nostra produce e se andiamo veramente a sostenere questo tipo di agricoltura possiamo spingere anche i supermercati a cambiare a cambiare le regole al loro interno se noi vogliamo altro arriveremo ad ottenere altro questo penso di sì però dobbiamo essere noi i primi a rifiutarci di acquistare quei prodotti che sappiamo non essere stati né coltivati o se si tratta di prodotti di origine animale o allevati in maniera veramente accettabile rispetto ai nostri valori etici anche sì e anche i nostri bisogni di nutrimento perché anche il nostro microbioma microbiota così come quello della terra ha bisogno di essere nutrito in un certo modo per funzionare bene altrimenti anche noi diventiamo sterili la cosa che andrebbe ripetuta ogni minuto insomma durante il telegiornale più ancora di tutte quelle immagini tristi storie tristi che riceviamo è che dobbiamo prenderci cura della nostra salute e quindi il primo passaggio lo si fa attraverso quello che ingeriamo quindi l'alimentazione è fondamentale e un'insalata non vale l'altra una frutta coltivata in un modo o in un altro l'una non vale l'altra dobbiamo sapere quel preciso cibo come è stato prodotto dove arriva abbiamo capito no anche ieri Stefano Berlini ha parlato ha detto questa cosa prevenire è meglio che curare no prevenire è curare in questo senso prenderci cura della nostra alimentazione è veramente fondamentale per la nostra salute io credo che in questo momento non tutti ma alcuni hanno cambiato in parte le proprie abitudini di consumo so che molte persone che conoscono che andavano abitualmente al supermercato si fanno arrivare la cassetta della frutta della verdura a casa dal contadino e magari sono abitudini che riusciremo a portare avanti anche dopo questa pandemia una volta ascoltata capita anche la differenza di sapore esatto e anche di pesantezza sullo stomaco perché certe insalate ti rimangono lì 12-13 ore quindi sì molto probabilmente sì allora ti faccio un'ultima domanda poi ti lascio andare e ci chiede Chiara un piccolo pezzo di terra ma credo che la terra sia molto povera di sostanze nutritive come la posso rendere più fertile per un primo per un piccolo orto e anche qui come facciamo a capire quando una terra è priva di sostanze nutritive guarda c'è una cosa semplicissima che possiamo fare è calcolare quanta materia organica c'è nella nostra terra si utilizza un vasetto di vetro con dell'acqua dentro si preleva un po' di terra dal nostro dal nostro orto si toglie proprio se ci sono le erbe sopra si toglie proprio il primissimo le prime erbe però poi si prende tutto sia la parte il primo strato che è quello che contiene materia organica e quelli successivi si scechera questa terra nel vasetto d'acqua e si aspetta almeno una giornata che tutto si ridepositi e a quel punto tutto andrà a depositarsi su dei livelli quindi avremo un primo avremo tutta la materia organica che galleggerà quindi vediamo qui e poi vediamo anche la composizione del nostro del nostro suolo che è una composizione importante da da una composizione importante da da tenere presente per fare i nostri interventi sapere come migliorare il nostro il nostro suolo comunque la cosa che ci dice se la nostra terra è fertile o meno sono anche le cose che ci crescono sopra quindi ci sono delle erbe spontanee conoscere di cosa hanno bisogno quelle erbe spontanee ci dice anche cosa è più presente e cosa è meno presente ci sono delle piante che arrivano soltanto in momenti disperati in situazioni disperate quando la terra ormai esausta compattata priva quasi quasi priva di vita crescono determinate cose in altri momenti con altre condizioni ne crescono altre quindi la prima cosa è l'osservazione comunque come come migliorare allora noi abbiamo bisogno per coltivare di materia organica di microorganismi e di poi una parte minerale sul minerale abbiamo pochissime possibilità di intervenire sono le caratteristiche del nostro del nostro suolo sui microorganismi se sono stati deteriorati distrutti si può fare molto in questo momento la materia organica ce l'andiamo ad aggiungere anche appunto con le pacciamature che sono questa copertura di materie naturali i microorganismi li possiamo moltiplicare ci sono tante ricette anche per fare questo e li andiamo a riaggiungere ne sono un po' sentate nello specifico delle ricette però ci sono tante ricette per riportare microbiologia nel suolo la microbiologia del suolo riattiva tutti i processi per restituire fertilità Francesca io ti ringrazio tantissimo sono arrivate tante domande molte di più di quelle che sono riuscita a farti per tutti coloro che vogliono approfondire queste tematiche ricordiamo il vostro blog che è il Bosco di Ogigia Bosco di Ogigia sì grazie noi facciamo soprattutto video che potete trovare su YouTube e anche su Facebook siamo anche su Instagram abbiamo il sito però insomma ecco il nostro racconto è soprattutto video perfetto quindi vi troviamo su YouTube come il Bosco di Ogigia sempre sì esatto tra l'altro in questi giorni stiamo facendo tantissimi video in più del solito anche se non possiamo farli dall'orto in genere li facciamo dall'orto adesso stiamo facendo dei collegamenti con persone che fortunatamente stanno ancora in campagna e ci raccontano quello che stanno facendo facciamo delle riflessioni anche stasera il 19 avremo la prima di uno di questi video che stiamo preparando a ruota continua va bene bellissimo allora invito tutti coloro che vogliono approfondire a seguire Francesca e Filippo sui loro canali Francesca io ti ringrazio vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi per il tempo che avete dedicato a noi e a tutti i nostri ascoltatori e ti mando un grande grazie a voi veramente bellissima iniziativa complimenti saluto tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci veramente bravi servono assolutamente questi momenti grazie mille Francesca a presto buona continuazione grazie grazie